Il futuro da manuale a controllare il sangue, a farsi analizzare, a riscola di imparare le mani e le giuste e a controllare che le mani siano sempre al loro opposto, agli spesi a preparare il futuro da manuale. Senza sapere che sta arrivando la tempesta e lei non lo sa, non conosce il nome e lei non lo sa che dopo la tempesta niente sarà uguale. Il futuro da manuale a controllare il futuro da manuale e le giuste a preparare il futuro da manuale. Anni spesi a preparare il futuro da manuale senza sapere che sta arrivando la tempesta e lei non lo sa. Il futuro da manuale a controllare il futuro da manuale e lei non lo sa che dopo la tempesta niente sarà uguale. Grazie!